Prima ottobre 2024, giornata mondiale degli anziani, tra l'altro singolare vicinanza con la giornata mondiale dei nonni che celebreremo domani, quindi fare un focus sulla terza età ci sembrava opportuna. Chi meglio di Domenico Pantaleo, presidente nazionale di Hauser, poteva aiutarci in questo senso. Buongiorno presidente, bentrovato. Buongiorno a voi. Sì, grazie per la vostra disponibilità. Prima di approfondire il tema andiamo a vedere la pagina di Un giorno una storia curata dalla collega Maria Pia Picciafuoco che ci aiuta ad entrare nel tema. Primo ottobre, giornata ONU delle persone anziane. Difendere i diritti delle persone anziane è sempre più importante. Esse non sono protette da uno specifico strumento universale per i diritti umani, come invece altri gruppi caratterizzati da situazioni di vulnerabilità. Il 14 dicembre 1990 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota una risoluzione che impegna i governi a un'azione urgente che tenga conto delle loro esigenze di protezione specifica. In Italia il 35% degli anziani ha difficoltà nell'accesso ai servizi sociosanitari. Due su tre non partecipa ad incontri di aggregazione sociale. Eppure il 39% di essi rappresenta una risorsa per i propri familiari, prendendosi cura di congiunti e amici. Uno su dieci fa attività di volontariato. Cambia il modo in cui pensi all'età. È una vecchia esortazione, valida tuttora. I giovani devono prendere atto che anche per loro il futuro significa diventare anziani. Spetta quanti oggi occupano posizioni di potere, plasmare quel futuro in modo consapevole e rispettoso. Dunque, Presidente, oggi giornata mondiale delle anziani, come abbiamo ascoltato, a che punto siamo con la tutela di queste persone che, come ci ricordava la collega, molte volte vivono in situazioni di vulnerabilità. E cos'è che fa Hauser per migliorare questa situazione? Ma intanto il Paese fa fatica dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle scelte che la politica deve fare, a comprendere che siamo di fronte ad un processo estremamente complicato nel nostro Paese. Presidente, stai uscendo un attimino fuori dall'inquadratura. Ti pregherei di provare a girare la camera verso di te. Non so perché... No, è giusto un piccolo dettaglio così ci possiamo dialogare meglio. Non so, ma non riesco... No, no, c'eri, c'eri. Era solo che stavi uscendo un po' dall'inquadratura. Dicevi che si fa ancora un po' di difficoltà in questo senso. Sì, si fa difficoltà a comprendere che con circa un terzo della popolazione oltre i 65 anni bisogna cambiare tutto. Bisogna cambiare il modello di welfare, bisogna cambiare la cultura di questo Paese, bisogna rendere meno soli le persone, bisogna ricostruire la cultura della solidarietà, dello stare insieme. Insomma, tutto questo danneggia oggi i diritti degli anziani. Molti anziani sono soli, più di un milione di anziani sono soli, 3 milioni e 900 mila anziani non sono autosufficienti. E rispetto a questi, i servizi che dovrebbero essere messi a disposizione delle persone anziane mancano o sono carenti. In più, bisognerebbe mettere in campo politiche di invecchiamento attivo. L'Auser si occupa essenzialmente di questo, ma politiche di invecchiamento attivo dovrebbero riguardare tutte le età. perché per fare un buon invecchiamento attivo bisogna iniziare da panciulli, dai bambini, dalle bambine. Sono perfettamente d'accordo, non ci si può ricordare esattamente all'ultimo momento. Perché è un fatto di grande prevenzione. E poi bisogna mettere in campo azioni multidisciplinari, no? Penso all'alimentazione, alle attività fisiche e sportive, alle città che devono essere a misura delle persone, con servizi adeguati, progetti di risanamento urbano, progetti di socialità. Insomma, bisogna ricostruire un'idea che tenga conto appunto dei processi demografici e anche di un rapporto intergenerazionale. Perché guardate, nelle esperienze di Auser, mettere insieme generazioni, noi lo facciamo ad esempio nell'RSA con i nostri volontari giovani, il servizio civile, lo facciamo portando la spesa a casa degli anziani, dialogando con gli anziani attraverso le nuove generazioni. Questo, guardate, fa sentire gli anziani inclusi nella società. Non esclusi, non come dice il Papa, degli scarti umani, ma ancora attivi, ancora in grado di dare, attraverso le loro competenze, la loro memoria, il loro modo di vivere, di dare anche ai giovani uno scambio di esperienze estremamente importante che arricchisce tutti. E noi siamo estremamente contenti che Auser svolga un ruolo di fondamentale importanza in questo senso, anche come rete proprio, sistema di rete tra i vari satelliti che ci sono su tutto il territorio nazionale, perché poi favoriscono, come appunto spiegavate benissimo voi, anche questo incontro tra le generazioni che è quanto mai importante. Però, come giustamente sottolineavate, è fondamentale che questo invecchiamento attivo sia precoce in un certo senso, non aspettare, magari, non rinviare troppo in là un certo dinamismo nella nostra società. Quindi non bisogna perdere il coraggio, l'entusiasmo di stare in mezzo alle persone e provare a fare la propria parte. Credo di dire bene, Presidente. Sì, noi pensiamo ad esempio che le scuole possono avere un ruolo importante in questa direzione. Nel senso che educare ad un invecchiamento attivo, ad una vita attiva, a un sistema di relazioni, a prendersi cura degli altri, perché io penso che questo Paese ha bisogno di tanta solidarietà, soprattutto perché crescono le disuguaglianze. C'è bisogno di un'azione a tutto campo. Non basta l'hauser, non basta il terzo settore. Serve in qualche maniera che tutte le istituzioni, da quelle scolastiche alle istituzioni locali, alle regioni, al governo, alle associazioni del terzo settore, si mettano insieme e costruiscono insieme le condizioni di un invecchiamento attivo e aggiungerei sereno. Perché guardate, la felicità anche per una persona anziana è un punto importante. Molti ritengono che gli anziani, dato che sono alla fine della propria esistenza, sostanzialmente sono rassegnati. Ecco, io vedo, nelle tante attività che l'hauser fa, invece, un processo esattamente opposto. Guardate, nelle tante attività che noi facciamo, abbiamo 1646 sedi, sparsi in tutta Italia, notiamo una grande attenzione, una grande partecipazione ad attività culturali, tipo teatro, danza, balli, cene, ma anche una curiosità. Ad esempio, tanti anziani stanno riscoprendo il valore della formazione, no? Facciamo tanta formazione digitale, perché si rendono conto che questo è importante, ma soprattutto la cosa che ci riconoscono è la possibilità di stare insieme con gli altri. Ecco, perché guardate, la solitudine è il vero dramma oggi della vecchiaia. È vero, sono assolutamente d'accordo e quindi particolarmente grato per il lavoro che fate, perché gli anziani sono una parte fondamentale e importantissima della nostra società. Anche noi nel nostro piccolo proviamo a fargli compagnia quotidianamente e a fare anche formazione. Il martedì, in maniera particolare, quindi proprio oggi, dopo il suo intervento, parleremo appunto di sana alimentazione con il nutrizionista e poi anche di vita attiva con la nostra rubrica della palestra. Per cui siamo in perfetta sintonia. Prima di salutarci, Presidente, vorrei rilanciare il vostro sito ufficiale www.hauser.it attraverso il quale tutti coloro che ci seguono possono approfondire la conoscenza di questa straordinaria e importantissima realtà e magari andare a trovare il punto Hauser più vicino a loro. Presidente, grazie mille per essere stato con noi e per aver impreziosito questa nostra puntata. Arrivederci a voi, grazie. Buon lavoro e buona vita e arrivederci a presto. Io, dopo aver salutato il Presidente nazionale Hauser, Domenico Pantaleo, restituisco la linea alla regia e come detto ci ritroviamo dopo per proseguire la nostra puntata come ogni martedì all'insegna della buona alimentazione, della sana alimentazione e appunto della salute fisica e mentale. A fra pochissimo. Grazie a tutti.